E' morto nella notte il capo operaio del comune di Francavilla al mare Giancarlo Carulli, rimasto folgorato cinque giorni fa mentre era al lavoro su un palo dell'illuminazione. Carulli era ricoverato nel centro Grandi Ustionati del Sant'Eugenio a Roma, dove era stato trasportato dopo le prime cure prestate nell'ospedale di Chieti. Aveva 64 anni e aveva riportato ustioni sul 90% del corpo. La notizia ha gettato nello sconforto Francavilla al mare, dove Carulli era molto conosciuto. Il sindaco Luisa Russo ha espresso le condoglianze a nome dell'amministrazione.